E quindi io visualizzo realmente questa distesa di gente che limona, che balla, che si sente libera di essere se stessa, che si sente libera di vestirsi come gli pare, parlare come gli pare, amare chi gli pare e intanto in una vibe di colori e musiche che io mi ascolterei sinceramente perché alla fine parte anche dal mio gusto. Però se questa cosa può essere anche, può aprire una porticina agli altri, cazzo io mi sento ben spesa. Se guardi al futuro che cosa vedi? Vedo, spero, tante persone ai miei concerti di fare questo, di aiutare in un senso. Cioè io voglio che il mio concerto sia anche un po' un rituale in cui entri, ti riempi d'amore, fai proprio una doccia d'amore e esci che ti è rimasto qualcosa.